Mister, un bel successo, soprattutto un successo fondamentale per l'avvicinamento dell'obiettivo stagionale, del primo obiettivo stagionale. Dell'obiettivo stagionale, poi i ragazzi hanno fatto un percorso di andata strepitoso e sembrava che si poteva pensare a qualcos'altro, però sapevo benissimo che questo campionato è fatto di alti e di bassi, sapevo benissimo che il girone di ritorno potevano nascere delle problematiche, non stiamo qui ad evidenziare perché e per come, perché non c'è motivo. Quello che conta è l'Avezzano, quello che conta è l'avvicinarci sempre di più all'obiettivo stagionale che è quello della salvezza, poi se saremo bravi a salvarci il prima possibile poi magari cercheremo anche un piazzamento più bello. Però ripeto, in un girone così difficile, in un girone che tutti ne parlano come una Lega Pro di Serie D, con tante grandi squadre, con grandissime società, un esempio il Notaresco. Il Notaresco negli ultimi anni ha fatto sempre campionati di vertice, quest'anno per varie problematiche che sappiamo tutti sono stati costretti a fare un campionato di difficoltà, vederla là sotto fa male, però se c'è il Notaresco e se c'è il Tolentino, due squadre che l'anno scorso sono arrivate, una terza se non sbaglio e una quinta, sesta, bisogna stare attenti, quindi noi da neopromossi penso che dobbiamo essere solo che felici. Mi serve una lettura del secondo tempo perché qualcuno direbbe che l'Avezzano si è chiusa e magari ha avuto poco possesso palla e poche occasioni. Il tuo punto di vista è questo oppure era qualcosa di previsto? No, assolutissimamente. Abbiamo preparato una partita per sorprendere l'avversario con quattro punte. Pellecchia alto a sinistra, Bittaglie alto a destra, Dos Santos e De Almeida. Li abbiamo sorpresi, siamo andati in vantaggio, però troppo facilmente il Notaresco alla fine del primo tempo ha creato delle situazioni di gioco dove noi chiaramente avevamo tanti attaccanti e in mezzo c'era un grande buco. Quindi è chiaro che ho voluto equilibrare la squadra, il Notaresco non ha fatto più nessuna azione, è stato solo pericoloso su qualche palla inattiva e sapevo benissimo che loro si sarebbero alzati perché l'1-0 chiaramente li portava lontani dalla loro dare di rigore e noi in ripartenza li avremmo fatto male. Quando si perde purtroppo non è mai meritato, secondo me c'è sempre qualche piccolo errore che comunque noi non ci possiamo più permettere vista la classifica. Noi però dobbiamo essere perfetti per vincere e per risalire la classifica. abbiamo fatto qualche errore che ci è costato caro, abbiamo creato, credo, 3-4 palle e gol forse se li ho contate bene. Dispiace perché la partita l'abbiamo fatta, l'abbiamo creato e torniamo a casa con un pugno di mosche. Cosa manca alla luce di una partita giocata come quella di oggi? E cosa ci manca? Secondo me ci manca quel guizzo che ci fa sbloccare e poi dopo diventa tutto più facile. Ripeto, oggi sono contento a tratti ma non sono contento per altri aspetti. Realisticamente per la salvezza diretta è finita oggi secondo te? Non so, io non conosco gli altri risultati però se non vinci fai fatica a salvarti direttamente. teoricamente ci sono ancora 9 partiti, tanti punti quindi tu li puoi prendere ma deve scattare in noi qualcosa in più di essere più decisivi e più concreti quando creiamo così tanto.